anche la diretta streaming su Twitch. Allora, come vedete, abbiamo, per chi ci segue tramite video, accanto a me, un ospite, dicevo, che era un pezzo che non parlevamo insieme, non ci incontrevamo da un pezzo, eppure una volta, lo presento, Enrico Fabraccio, della lista Recanati nel mondo. Una lista di cui abbiamo perso anche un pochettino memoria, perché di dibattito politico ce n'è stato poco in questi anni, da quando le elezioni sono state vinte da Antonio Bravi, ma noi abbiamo con Enrico realizzato anche alcuni servizi, una volta, ironicamente, lui si presentava come Fabio e Bingo. Fabio e Bingo, io sarei stato Fabio, personalmente, non so. Facevamo a cambio. Facevamo a cambio. Abbiamo sollevato alcune criticità, come ad esempio quella del giardino di via Matteotti, che poi è stato ripreso perché è stato pulito da alcuni volontari, fra cui si era impegnato il comitato di Castelnuovo. Poi lì erano state piantate anche delle nuove, senza arbore, fra cui una quercia roburre, cioè proprio che sembrava che questo problema fosse stato risolto. In realtà l'erba è ritornata a crescere rigogliosa, le banchine sono state di nuovo sommerse dall'erba, addirittura sono state messe lì delle transenne perché si sono accorti che era la staccionata, anzi la ringhiera in ferro ormai vecchia di 40-50 anni, costituiva un pericolo e quindi non poteva quell'ala e quella parte del giardino essere frequentata. Come vedi abbiamo sollevato questo problema, per dire uno, fra i Dante, abbiamo fatto visita alcune strade di campagna, adesso uno dei problemi più grossi, anche ieri sera le poche telefonate che abbiamo avuto di cittadini, la maggior parte erano dovute a strade franate, a buche sulle strade di campagna, quindi non è che ci siamo inventati degli argomenti per spirito polemico, i problemi c'erano ed erano reali. Io con Enrico Fabracci questa sera, voi sapete che avete sempre la possibilità di telefonare al 7574429, parlerei un pochettino di quello che si dovrebbe, diciamo così, prospettare o comunque dovrebbe essere un impegno oggi più che mai avvertito perché dopo 4 anni di amministrazione bravi ci si prepara fra un anno ad entrare in piena campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, del nuovo sindaco Enrico. Ma qualcuno ha detto che è ora di svegliarci, lo ha fatto anche più di un mese fa, all'inizio dell'anno mi sembra Luca Marcone dicendo ma il centrodestra se continua a dormire rischia di fare quello che ha fatto 5 anni fa, di presentare un candidato negli ultimi due mesi di campagna elettorale. Troppo poco tempo per poter far digerire alla gente o comunque far conoscere alla gente la candidatura, il personaggio. A meno che non ci rivolgiamo alle vecchie cariatidi, diciamo così, della politica, quelli che hanno ormai un'esperienza più che decennale. Tu come la vedi? Perché sei stato tu un po' a suggerirmi ma vogliamo risvegliare un pochettino l'ambiente? Questa è la tua preoccupazione, no? Ogni volta che mi telefoni dice qui stiamo dormendo, vogliamo risvegliarlo un pochettino? Vabbè dopo questo covid ci siamo dimenticati di tutto. Innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori, è sempre un gran piacere essere qua perché è una radio che permane nel tempo con tutti questi cambiamenti tecnologici, questo modo di fare informazione che cambia, il mondo va eppure c'è chi per passione porta avanti ancora un emittente radiofonico, come dicevo complimenti anche alla Moita Stereo, tutti i partecipanti perché passare giornate non è semplice mettere impegno per portare avanti un determinato tipo di informazione e soprattutto lo si fa per passione, non lo si fa per soldi e questa è una cosa ancora più onorevole. Come donore tutti i mezzi di stampa, di informazione locale di chi mette impegno per tenere alta ancora l'informazione di Reganati. Un saluto a tutti i radioascoltatori, mi sono permesso di dopo tre anni di silenzio purtroppo che abbiamo passato questo periodo che ha segnato i nostri libri di storia e purtroppo ha segnato anche tante famiglie su disgrazie, su problematiche, ha cambiato la vita di tutti noi, sono passati degli anni, forse abbiamo chiuso gli occhi, non ci siamo resi conto, tante volte parlo con qualcuno e mi dice ma come l'anno prossimo ci sono le elezioni perché ci sembra Stereo quasi di essere rimasti al 2020. O il tempo scorre così veloce che la gente non si rende conto oppure ormai ha perso significato le elezioni. Secondo me il fatto è che tanto è stato veloce il cambiamento che forse non ci sono stati anche dei risultati politici a parte dell'amministrazione importanti nel senso che diciamo si è mantenuto un po' quello che era l'ultimo anno dell'amministrazione Fiordomo e da lì anche a livello di manifestazioni e a livello di cura della città abbiamo lasciato un po' il tempo che trova. Quello che più mi dispiace perché chi fa politica come me per passione che da anni che è all'interno del mondo politico quindi oneri e onori pure di questo come raccontavi sui servizi che facevamo vedere i disservizi della città che effettivamente però c'è avuto un riscontro come dicevi Stereo perché tutto quello che abbiamo fatto, anche perché davanti ai video è difficile poter dire il contrario perché quando la verità è così in evidenza e quindi ci vuole solo coraggio di mostrarlo è una voglia di voler bene alla città. Recanati? Che dire di Recanati? Ho due o tre argomenti che nel corso del tempo di questi anni ho deciso di mettere come priorità. La prima cosa io penso che una città debba essere giudicata secondo quando un turista o una persona di comuni limitrofi a primo acchitto arriva e dice che bella città una sera di quest'estate una delle varie sere tra cui quest'estate è stata anche un po' più di turismo perché col fatto che andando in Puglia qualcuno si è fermato sulla riviera del Conero e anziché fermarsi perché andando in Puglia? Perché la Puglia è stata la regione più popolata a livello turistico andando in Puglia e la riviera del Conero ha assorbito una marea di turisti. Mi dispiace che hanno portato i soldi a Emiliano ma comunque... però anche la Puglia è un discorso diverso perché ci sono degli investimenti a livello turistico molto differenti. Però per dirvi ci vantiamo di serate dove ci sono 50 persone in piazza magari con quell'iter di bar a cui faccio i complimenti a tutti gli operatori che nonostante i grossi problemi col Covid tengono duro e non è facile mettere a repentaglio la vita delle proprie famiglie con tutte queste problematiche economiche ci sono state però continuano a fare impresa a Recanati e tengono... c'era una pizzeria, c'è dei panini, un bar che fa da vineria, da cocktail bar si era creato quell'indotto che c'erano quelle 100 persone a sera c'era la macelleria che fa ristorante è la macelleria che fa ristorante, scusate non voglio dimenticare allora una di queste sere un po' più fredde mi capita che una coppia di agenti di commercio romani si fermano lì su uno di questi bar seduti e mi dicono ragazzi ma siete stati bombardati? io dico in che senso? ha detto io e da oggi pomeriggio non trovo una persona non trovo una persona la battuta che io dico abbiamo la città forse più bella delle tre province ci sono Ascoli, Urbino, Bell'Ancona, abbiamo tanti comuni però Recanati fa la parte sua è una delle città che poggia su tre colli particolarità di palazzi storici storia particolare se studiamo con il Vaticano mercati c'è tutta una storia particolare il problema è che oggi viviamo ancora più rispetto agli altri un problema commerciale che veramente è incredibile noi abbiamo una situazione commerciale da mettersi a piangere e in aggiungere a questo oltre il Covid ci siamo inventati lo ZTL cioè perché per aiutare gli operatori commerciali siccome noi siamo molto probabilmente come abbiamo le stesse problematiche di Firenze che non dobbiamo far passare all'interno le macchine perché forse avremmo 5-6 mila macchine che passano ci siamo inventati lo ZTL perché l'accessibilità sicuramente porta risultato a livello economico tu lo chiudi e molto probabilmente anziché andare a Porto Recanati o andare su una sera d'estate a Sirolo, al Monte Conero o a Civitano vengono tutti da te lasciano la macchina sotto pagano il parcheggio fino a mezzanotte e vengono cioè stiamo facendo delle politiche ridicole oltre a avere delle problematiche enormi creiamo più problemi di quello che siamo porto l'esempio di Macerata Macerata che per anni ha avuto lo ZTL sulla rampa Zara finalmente si rende conto dei propri limiti apre davanti alla questura un piccolo parcheggio non è che deve essere uno stallo di un parcheggio ma un piccolo parcheggio come c'era prima come c'era stato scendo giù dieci minuti prendo un caffè e devo fare una piccola commissione è inutile che noi vogliamo fare la città ecologica se non ci abbiamo le persone cioè a stereo tanto non inquira niente nessuno oggi la metà delle macchine che sono al centro storico sono tutte in divieto di sosta con le fioriere che ci sono io posso capire lo ZTL nel momento della cena ci sono quattro si mangia di fuori si mangia in piazza atmosfera unica posso capire in un certo orario per salvaguardare le famiglie con i bambini che giocano ma deve essere un'ora noi non possiamo interamente chiudere una città se non abbiamo persone è una cosa controproducente e mi aggiungo a questo purtroppo tra le varie vicissitudini importanti che ci sono stati in questi anni c'è stato il discorso che la Re Canatese è arrivata in Serie C grande onore per tutti grande onore per la squadra amore folle nei confronti della squadra della città e di tutto quello che vogliamo questa premessa fa seguire un ma quello che io penso con il cuore sulle mani che io condivido in pensiero e come pensiero a tutte le persone con le quali condivido un certo tipo di discorso e mi sono anche nemicato qualche amico stretto per questo discorso ma secondo me su tutti i discorsi c'è un equilibrio nel senso che abbiamo speso a livello di bilancio 3 milioni e mezzo di euro per rifare lo stadio Nicola Topaldi lo stadio Nicola Topaldi con 3 milioni e mezzo di euro sono state ampliate la parte dell'atletica è rimasta dimmi a stereo se sbaglio qualcosa la parte dell'atletica è rimasta sono state ampliate le tribune abbiamo fatto uno stadio mediocre 3 milioni e mezzo di euro di mutuo su un bilancio di 17 milioni di euro come quello di Recanati quando noi qualche anno fa ci siamo dati via la Stea che era uno di quegli indotti che ci dava qualche centinaia e migliaia di euro di entrate all'anno era come un affitto che una famiglia percepisce impegniamo con un ulteriore mutuo 3 milioni e mezzo di euro senza neanche pensare che se facciamo tutti i malaguri di questo mondo se succede qualsiasi cosa che la società non quest'anno fra 4-5 anni ritorna a essere una società dilettantistica non più professionista noi non possiamo impiegare questo stadio neanche per fare un concerto perché non c'ha i standard minimi per farlo allora tutto questo bilancio questo mutuo che noi pagheremo con gli interessi fior di milioni ma perché non abbiamo fatto un'azione visto che si è fatto in tanti altri discorsi tra pubblico e privato una società interessata a poter fare uno stadio come succede in tanti altri stati dove sono nominali penso al MAPEI Stadium penso a tanti altri stati ma perché non si è fatto un project financing dove quel milione di euro che noi abbiamo libero per i mutui poteva essere benissimo impiegato sul discorso dei parcheggi di Recanati quanto ci costa uscire da queste benedette convenzioni fatte vent'anni fa quando c'erano i patti di bilancio che i sindaci si sono venduti le città per poter fare i propri investimenti ma è possibile che noi dobbiamo continuare a pagare i parcheggi ma quanto costa uscire da questa convenzione domencio Grazie.